Musica Mille stelle filanti giocano in cielo Magico volo che porta il vento sul nostro carnevale Per cosa significa avere coriandoli nel sangue come si dice a Viareggio? Coriandoli nel sangue è un Viareggio vero, un Viareggio puro Dove si vuole andare a carnevale, si vuole divertire e non pensa ad altro La tua passione per il carnevale quando nasce e da cosa nasce? Sicuramente tramite gli amici, la compagnia, mi hanno poi morto in una mascherata Noi siamo nella mascherata della D'Arcena È un momento per divertirci, per non pensare a niente È bellissimo il carnevale a Viareggio, è il massimo per noi Allora vi indichiamo tutti al carnevale di Viareggio Ogni angolo, scoprindo la gioia e la magia che c'è Allora vi indichiamo tutti al carnevale di Viareggio